Perché non mi aiutate? Sekhmet vi ricompenserà! Vi prego! Mio marito è in pericolo! Ho bisogno d'aiuto! Mejjay, aiutami! Ti pagherò! Che ti serve? Ieri notte, il mio amato marito Claudio è uscito in barca per vedere le rovine oltre il lago, ma non è più tornato. Loro non capiscono il dolore di una moglie. Ti prego! Andrò a cercarlo. Fai in fretta! Ti aspetto qui! Più tempo perdi, più rischi corre mio marito! E mi seggerietto? Non mi s'nio, Geryan? Oh! Wow! Wow!